E' da tempo che si parla di una riqualificazione profonda della Sassonia in stile Pincio, uno dei punti più turistici di Fano ma ancora questa evenienza è ben lontana dal divenire. Questa estate ce la dovremo tenere ancora così. La Sassonia è il luogo dove si concentrano la maggior parte delle strutture ricettive e delle spiagge, dei bar gelateria, locali e ristoranti della città e quindi luogo di passeggio serale sia per i locali che per i forestieri e di giorno luogo di intrattenimento per famiglie, visti gli spazi verdi e le aree giochi e fitness di recente installazione o di persone anziane in cerca di refrigerio dalla canicola estiva. Insomma un luogo di grande frequentazione da parte di chi desidera passare un fine giornata in tranquillità ma che sia anche un posto piacevole e decoroso. Ma questa ultima considerazione mal si concerta con lo stato attuale della passeggiata della Sassonia. Si sono intensificate alla nostra redazione ultimamente chiamate segnalazioni di chi invece vorrebbe che questo fosse il salotto estivo buono della città. Una bella cartolina per chi viene in vacanza qui da portarsi a casa e magari farne un buon passaparola. Ma percorsi pedonali che mostrano evidenti segni di degrado ed anche in alcuni punti di pericolosità per chi può inciamparvi o passarvi sopra. O strutture ormai ridotte solo a un fiebile ricordo di ciò che furono o potrebbero essere. Vedi la tanto amata rosa dei venti ormai ridotta ad un vero e proprio rudere. Ed anche alcune panchine lungo la passeggiata che ha il solo pensiero di sederci sopra passa bene alla svelta alla soloa loro vista. dato che lo stato avanzato di degrado del legno e della struttura è stato messo a dura prova dal tempo e dall'azione vandalica di menti poco sviluppate. E così danno al passeggiatore della Sassonia tutt'altra sensazione da portarsi a casa. Questa Sassonia andrebbe rimesso un po' a nuovo? Certamente, specialmente le buche. Le buche? Tante? Le buche, le vedete. Per voi che è andata in bici? Va bene, è una scaricata perché è una sculata indietro. Però sarebbe meglio metterlo un po' tutto a posto, bellino. Sì, 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 anche il viale, tutto. Tante serie ha vinto ormai, no? E ora bisogna che fa qualcosa. Chi la vive quotidianamente poi ha ancora di più il polso della situazione. C'è quel cespuglio là, diciamo, perché è diventato un cespuglio. Metà è fradicio, è marcio. Per il resto è, vede anche lei, no, com'è per il resto. C'è abbiamo il tendone che è poverino, è agli sgoccioli. Panchine queste qui, che insomma, ci sono dei ragazzi che ci vengono a giocare con i skateboard, come si chiamano quelli, e ci montano anche sopra addirittura, ci montano. Questa struttura è stata fatta quanto c'era a Trapoli, quindi sono passati più di 30 anni e non è mai stato fatto niente. Praticamente c'è da fare. Grazie. Grazie.